Signora Lalla, dove sei? T'aggiri nella tua casa piena di panchetti o su un quaderno scrivi un cinque e metti un punto sopra unì con due sospiri? Signora Lalla, hai più quel mio ritratto che io ti donai per Santa Eulalia e quella triccia in un quadro d'una tua sorella defunta e l'altarino è ancora intatto? Forse sei morta ed i tuoi strani oggetti sono scesi con te, con la tua spoglia dentro la fossa, la tua casa è spoglia, dei quadri, dei presepi e dei panchetti. Che importa, io t'amo e tu sei viva, o muta immagine che guardi i miei quaderni, dura e i noti caratteri viscerni con uno sguardo di sopravvissuta. Come son vani, come son diversi, signora Lalla, i miei compiti d'ora. Dimmi, vuoi riguardarmeli tu ancora? Sembra uno scherzo, ma son tutti inversi.